Innovazione tecnologica nella diagnosi e innovazione tecnologica e genomica nella patologia di genere. Sono questi i temi al centro del congresso promosso dal CMO svoltosi presso l'Aulamagna del Centro Congressi dell'Università Federico II di Napoli. Ad un uomo su sei, nell'arco della propria vita, viene diagnosticata una neoplasia prostatica, mentre nell'ambito della patologia mammaria, ad esempio, è stato stimato che almeno il 7% delle neoplasie è su base ereditaria. Una fetta consistente di tumori ha dunque una forte e spesso prevalente base familiare. Questa considerazione ha condotto i ricercatori che operano nel campo dell'oncologia a variare negli ultimi decenni l'approccio alla patologia neoplastica. Tali capacità si traducono in diagnosi precoce e migliore terapia. Ed è questo l'obiettivo del convegno, come precisa la professoressa Anna Maria Colau, coordinatrice scientifico del simposio che sul futuro della ricerca biomedica ha precisato. Un cancro non è più soltanto una malattia di crescita esagerata dei tessuti, ma ha delle caratteristiche che dipendono paziente per paziente dall'espressione di alcune molecole che noi chiamiamo oncogeni, sui quali possono agire delle terapie più specifiche e questo vuol dire personalizzare la terapia nei pazienti che sono affetti da malattia neoplastica. Un laboratorio di genomica all'avanguardia consente al CMO di Torre Annunziata di fare moltissimi test oncologici che sono indicativi per la terapia del paziente, ma soprattutto per l'approccio chirurgico fondamentale per sapere se il paziente è affetto da mutazione genetica ed è stato anche elaborato un kit per far fare il prelievo direttamente al chirurgo di fiducia. Uno blu per i tessuti, colon, polmone, tiroide, ovaio e uno rosso dedicato esclusivamente alla mammella. A parlarcene è l'oncologo Rigatti e il direttore del CMO Luigi Marulo. Oggi sembra che non sia l'organo malato ma un tumore dell'organismo che si concentra in quell'organo quindi completamente cambiato il tipo di impostazione medica. Si sta parlando di una rivoluzione scientifica copernicana perché si passa da un approccio basato su evidenza clinica e linee guida a un approccio basato sulla personalizzazione della cura medica.